A posto, quando eravamo 17 anni? Quando eravamo 17 anni, ci trovavamo nella banda qua. Allora, bisognava andare a Riace per portare il braccio di San Cosimo, una cosa fatta da dentro, c'era la reliquide, perché non pioveva il tempo. Allora, per voto, bisognava portare questo braccio alla marina al mare. Allora si partiva a piedi da qua, molto presto, si arrivava a Riace, faceva con la banda il giro del paese suonando, poi usciva questo braccio e lo portavamo a mezzo alle pavie, e sia, perché non per la strada, nelle campagne, finché arrivava al mare. Al mare il prete diceva la messa, benediceva, e poi si partiva per ritornare sempre a piedi. Quando si arrivava sopra la ferrovia, facevamo una sorta per mangiare. Pane e salate, salate, o pane e formaggio. Allora, se arrivava a Riace questo libri unire, mettevo in questo braccio di San Cosimo, si chiede, e poi partiva per ritornare a casa. una sera, stacco pomeri, ho corso prima per arrivare a Mandaranula, mi sono affoggiato su una pietra, come è arrivata la banda, ha dovuto sbagliarmi tanto perché era stanchetto. Va a dirgli a un giovane di oggi, anche se gli dai 100 euro, ti dice, io, Stignano, Marina di Riace, ritornare, e ogni stanza mangiavamo qualche pavo, sai, che è già maturi, che le vende là, qualche... Guarda che vita, guarda. Diggono oggi a questi giovani, a venire, che erano quattro cantinezze nere, altro che... Caro cugino, la vita che si faceva una volta.